Ci sono mille emergenze, da tre giorni che lavoro già da solo, ci vuole il supporto di tutti. Abbiamo diversi provvedimenti già sul tavolo da poter deliberare di giunta, non c'è tempo da perdere, quindi abbiamo ottimizzato i tempi e in breve tempo abbiamo fatto tutti gli adempimenti burocratici con la designazione di tutti gli assessori con le deleghe affidate. Da pomeriggio incominciamo a lavorare. Lo abbiamo detto per tutta la campagna elettorale, le persone hanno capito il messaggio. Siamo vicini a tutti quei concittadini che non possono pagare perché sono in difficoltà, perché hanno una crisi economica e questi cercheremo di tutelarli in qualsiasi modo con quello che la legge ci permette e possibilmente migliorando i nostri regolamenti comunali. Tutti quei cittadini che invece negli anni hanno avuto la loro certezza di non essere perseguiti, hanno avuto la disonestà di usufruire di servizi che non pagano, lasciando sulle spalle dei cittadini onesti che hanno sempre pagato l'onere di pagare per tutti, non è più possibile continuare in questo modo. Abbiamo voluto dare un segnale con questa delega che questo tipo di comportamento deve finire perché la città ha bisogno di ripartire e si riparte se tutti collaboriamo.